Il futuro di Kvika Kvarazkelia potrebbe essere lontano dal Napoli. Il Manchester United è serio nel presentare un'offerta shock da 9 milioni di euro all'anno per il Giorgiano, tre in più rispetto alla proposta di rinnovo del Napoli. Secondo Sport Mediaset, la proposta dei Red Devils avrebbe già attirato l'attenzione dell'entourage del calciatore. Un cambio che complica i piani di De Laurentiis, fermo nella proposta di un bonus da 6 milioni compreso per il rinnovo del contratto. La situazione preoccupa il club azzurro. Se l'impastra l'agente Ugelli e il capitano azzurro dovesse persistere fino al termine della stagione, il Napoli valuterebbe il trasferimento. De Laurentiis avrebbe già definito il prezzo, un valore intorno ai 100 milioni in contanti, ovvero una parte fissa più un gradito corrispettivo tecnico per il club del Napo Parino. Non è solo lo United a parlare del talento giorgiano, il PSG segue con attenzione la situazione, mentre il Barcellona pare più scarmigliato. Ma sono i Red Devils, con i loro 9 milioni di buone ragioni, ad essere in pole position per convincere Quaraschelia.